Gli uprights del film Mosley. Il film d'animazione Mosley del 2019, diretto da Kirby Atkins e Jun Wang, ci introduce a una specie di creature chiamate Torifans, che si ribellano alla loro vita di servitù e intraprendono un viaggio pericoloso alla ricerca della leggendaria città degli uprights. Questi esseri, gli uprights, sono descritti come giganti bipedi, un incrocio tra un cavallo e un piccolo elefante, ma senza proboscide e senza zanne. Hanno orecchie lunghe e cadenti e un corpo robusto, e sono capaci di parlare e indossare vestiti come gli umani. Vivono nella città di Kineserat e possono vivere oltre 100 anni. Aspetto generale degli uprights. Klee uprights sono giganti alti circa 10 piedi, con una struttura che ricorda quella di un cavallo incrociato con un elefante, ma con una postura bipede. Non possiedono né proboscide né zanne, ma hanno orecchie lunghe e pendenti e un corpo massiccio. Sono capaci di parlare e di indossare abiti, simili agli umani. Caratteristiche degli uprights maschi. Klee uprights maschi sono dotati di corna simili a quelle dei tori e alcuni di loro possono avere una lunga barba bianca. Caratteristiche degli uprights femmine. Le femmine degli uprights non hanno corna, ma possiedono seni simili a quegli umani. Habitat. Gli uprights vivono in una città chiamata Kineserat. Dieta. Sono erbivori, ma hanno una particolare predilezione per i muffin. Periodo di gestazione degli uprights. Considerando la loro stazza e la loro intelligenza, si potrebbe ipotizzare un periodo di gestazione di circa 18 mesi, dato che sono creature grandi e complesse. Produzione di latte degli uprights. Dato che gli uprights hanno un solo figlio per parto, la produzione di latte potrebbe essere limitata ma sufficiente per il bisogno del loro cucciolo. Si potrebbe stimare una produzione di circa dai 30 ai 60 litri di latte durante il periodo di allattamento. Dimensione del pene degli uprights. Essendo giganti di 10 piedi, si potrebbe ipotizzare che la dimensione del pene di un upright adulto sia proporzionale, stimando circa da 60 agli 80 centimetri. Misura del reggiseno degli uprights. Per le femmine, considerando la loro statura gigantesca e i seni umanoidi, la taglia del reggiseno potrebbe essere molto grande. Forse una misura personalizzata che potrebbe corrispondere a un accento di DD o superiore. Queste informazioni offrono uno sguardo approfondito sul mondo fantastico degli uprights nel film Mosley. Un'avventura animata che esplora temi di libertà e scoperta di sé.